Ci avviciniamo alla fine, ho l'ultima domanda per voi, visto che Wissal parli di rabbia e credo che sia pregnante nel momento in cui ci troviamo a parlare di classe, che è l'ultimo macro tema. Avete già anticipato tanto di quello che avete detto, tutto quello che avete detto in realtà interseca questi piani, però una riflessione a partire dalla classe secondo me è doverosa nel momento in cui si parla della fase storica di cui stiamo parlando. Tra l'altro non a sproposito, sabato prossimo si terrà a Venezia il G20 per la finanza e l'economia, una data in cui sostanzialmente le 20 potenze più industrializzate della terra si trovano a legiferare sulle vite di tutte e tutti noi e rispetto a questo noi il 10 di luglio abbiamo lanciato un appuntamento alle due e mezza in Riva delle Zattere in cui invitiamo tutti e lo facciamo perché? Perché nel momento in cui si parla di economia, si parla di classi sociali, si parla di finanziarizzazione, capitalismo, questi temi non possono prescindere e spesso lo fanno dalla questione della razzializzazione. Cioè parlare di razzismo non come ignoranza ma come un costrutto sociale, cioè qualcosa che è funzionale, ha la distribuzione della ricchezza, la distribuzione del potere, la produzione e riproduzione di un sistema economico che è quello in cui stiamo vivendo è un punto cardine su cui spesso anche i movimenti si sono incagliati. Penso per esempio ad Occupy Wall Street, penso a tutte quelle volte che viene evocato quel 99% senza la capacità poi di far emergere come la questione di genere, la questione della razza, la questione di come vengono codificati e gerarchizzati i corpi, renda possibile poi determinate disuguaglianze. Allora rispetto a questo, appunto tanto è stato già detto, però vi chiederei insomma come, cioè anche l'esperienza che avete a TV, cioè io penso ovviamente tu, Wissal, dici io sono un artista, sono una scrittrice nella performance, nella lettura, nella pratica quotidiana, nella vostra esperienza, cioè è qualcosa con cui vi trovate a fare i conti, oppure è qualcosa che secondo voi è stato, cioè è ben chiaro, è ben delineato? Eh, allora, mi piace molto la diversità, già anche solo tra me e Wissal, che su molte cose abbiamo vissuti simili, diversi, visioni simili, diverse, e proprio questo mi piace, perché mi sento costantemente stimolata, e io penso di essere un po' oltre o comunque lontana dalla fase della rabbia e sono nella fase della indifferenza, che non so se è positiva o negativa come cosa, perché giustamente Wissal dice la rabbia è comunque un carburante potente, l'indifferenza è piatta, è silenziosa, è statica, però penso proprio di essere in questa fase in cui il razzismo non è un mio problema, il razzismo è un problema di chi mi chiama la brasiliana focosa o che dice che tutti i neri rubano, tutti i neri sono venuti coi barconi a rubarci il lavoro, eccetera, eccetera, non è un mio problema, è un problema di chi la pensa così, di chi ha amici che la pensano così e non ha il coraggio di distanziarsi da questi amici, di dire qualcosa a questi amici, a questi parenti, alle cene di Natale, perché il Natale è sacro, cazzo, scusate, sono in diretta, però, allora, il Natale è sacro, la vita delle persone così, così, va, quando ci pare, onestamente il razzismo non è un mio problema, il sessismo non è un mio problema, è un problema di quelli che mi fischiano per strada, è un problema di quelli che mi dicono cosa devo fare, come mi devo vestire, perché sennò provoco troppo, o sembro troppo suora, o sembro troppo così, non è un mio problema, e in questo momento sto vivendo la mia vita così, questo non vuol dire però che me ne frego dei problemi altrui, questo vuol dire che sono costantemente in contraddizione e mi interrogo costantemente su quello che sto facendo per essere coerente con me stessa, perché è l'unica persona a cui io voglio rispondere, alla sera facendo i conti con me stessa, non voglio rispondere a nessun altro, e quindi comunque continuo a informarmi, continuo a mettermi al servizio delle persone, ma non come martire, o crocerossina, o volunturista in Africa, a salvare i poveri bambini, dalla tubercolosi, i poverini, che stanno però sempre a sorridere, no? Cioè, questo è bello, no? Che con loro comunque hanno sempre il sorriso sulla faccia, no? E quindi ci insegnano tanto, no? Dell'essere umani, della resilienza, no? Della resilienza che vuol dire resistenza, ma io non voglio sempre resistere, io non voglio sempre dover dimostrare, dover combattere, dovermi arrabbiare, dovermi far rovinare la giornata, io voglio anche essere una persona scema, ignorante, su alcuni aspetti, e avere il diritto di rivendicare questa semplicità, questa normalizzazione, che è tutto quello che ci aspettiamo e che pretendiamo, normalizzazione. Ma è difficile, perché appunto porta con sé tutta una serie di contraddizioni, e quindi appunto ti vedi un panel su il lavoro, dove ci sono appunto vari rappresentanti di varie istituzioni, di sindacati, di aziende, di politici vari, e c'è sempre un grande assente, che sono appunto i migranti economici, no? Gli immigrati economici, le persone nere, le persone di origine straniera, le persone razzializzate, le persone disabili. E allora quando glielo si fa notare, ah no, allora organizziamo subito la conferenza, il lavoro migrante. Questa parola, no? Così, così gettonata. E di nuovo continuiamo a trattare quindi le questioni come compartimenti stagni, e non come una complessità che insita nell'essere umano, nelle società capitaliste. Siamo tutti parte di uno stesso sistema capitalista, e tutti e tutte e tutto, a nostro modo lo alimentiamo. Continuamente. quando cerchiamo appunto di avere una seconda casa, una terza casa da mettere in affitto, per poi appunto andare in vacanza alle Maldive, dove una persona probabilmente di origine filippina, capoverdiana, marocchina, ci avrà pulito la casa per le ferie. Pagata, non ci interessa quanto, e poi usciamo a prendere un cocomero, una fetta di cocomero da una persona di origine indiana, pakistana, che chissà se ha figli, se sono lontani, se sono vicini. Queste domande devono essere costanti, devono essere parte di noi, devono essere continue, e ci dobbiamo informare, dobbiamo uscire dai canoni. Se avete tutte le stesse facce sui vostri feed di Instagram, sui vostri, sulle vostre bacheche di Facebook, tutte facce di persone bianche di una certa età, tutte persone etero, tutte persone cristiane, c'è un problema, siete parte del problema. Diversificate le fonti di informazione, diversificate le fonti di accesso all'informazione, alla conoscenza, ma senza strumentalizzare il diverso in quanto tale, ma proprio per capire come mai tutti i vostri amici sono bianchi, come mai tutti i vostri amici sono etero, come mai tutti i vostri amici sono cristiani, c'è un problema. ma in che modo voi siete in questo momento parte del problema? In che modo lo siamo? Grazie. Allora, a me viene voglia di citare Belux, perché diciamo è l'afro americana più vicina al mio modo di essere, quella che sento più nelle mie corde. lei diciamo nonostante siano tutte delle intellettuali, Kimberly Crenshaw, Angela Davis, Belux, stiamo parlando comunque di intellettuali e quindi già per me c'è un livello di privilegio che va oltre, cioè non erano donne che hanno scritto in quanto domestiche, badanti, eccetera, 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 no? Comunque rompere il muro del silenzio significa in qualche modo aver avuto accesso a un qualche privilegio, perché la voce è un privilegio e quindi io quando scrivo o quando parlo o quando ragiono cerco sempre di ragionare, di scrivere, di parlare pensando alla me quando non aveva voce, c'è stata una fase di me che non aveva voce e che a un certo punto ha preso voce e non è che l'ha presa, l'ha proprio strappata quella voce, l'ha proprio faticato tanto, 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 tanto. È come quando cerchi di pedalare il doppio per stare al passo, io dico sempre che bisogna pedalare il triplo per superare il passo, perché se vuoi cambiare le cose, uno devi pedalare il doppio per stare al passo, per stare al passo delle persone diciamo privilegiate, però se lo vuoi cambiare quel passo, se vuoi un attimo deviare dal binario, devi proprio camminare il triplo, devi correre per cambiare il passo, quindi la tua voce, devi riscattare la tua voce, devi urlare per far sì che la tua voce venga sentita da chi non ascolta e devi sbraitare, sgolarti per far sì che questa cosa assuma un altro, diciamo, un'altra cosa, vada verso un'altra direzione, in modo che in qualche modo si possa deviare anche da questa situazione. Belux, io per esempio parlando di voce, di espressività, eccetera, una mia grande passione è la musica rap e quando parlo di rabbia parlo anche di questo, nel senso che io a 11 anni ho iniziato ad ascoltare rap, parlo sempre di rap in queste situazioni perché per me sembra una nota di colore ma non è la nota di colore, per me è il metodo proprio che mi ha permesso di acquisire la mia libertà, di acquisire il mio, la mia autodeterminazione, eccetera, eccetera, eccetera. Prima che arrivassero i libri, che 18 euro per comprare questo, e 16 euro per comprare questo, se tu vieni da una classe sociale che non si può permettere di pagare le bollette, certo, non spendi 18 euro per comprare un libro, è chiaro. Quindi, se non hai già, diciamo, stimolo, non hai genitori che ti stimano a culturarti perché sono venuti qui come immigrati economici, c'è già di base, la premessa già parla di classe, non, cioè, prima della razza c'è la classe, non so come dire, ma non per pippe, non per pippe intellettuali, ma proprio, cioè, la premessa proprio pratica, no? Cioè, i miei genitori sono venuti qua in Italia perché lì stavano facendo la fame, è chiaro. Nel momento in cui sono venuti in Italia hanno scoperto che cos'è il razzismo occidentale, è chiaro. E nel momento in cui hanno avuto una figlia femmina, ho scoperto, io da figlia femmina di immigrati, poveri, che cosa significa l'intersezionalità Kimberly Crenshaw arrivò a me troppo tardi, ahimè. 18 euro e 16 euro, è importante dire queste cose perché io da adolescente mi vergognavo di uscire il pomeriggio con le mie amichette perché le mie amichette il pomeriggio per passare il tempo volevano prendersi l'estate o il gelato, 1 euro e 20, 1 euro e 80 che ahimè per averli bisognava fare dei sacrifici, quindi ho iniziato a smettere proprio di andare in giro con le amichette perché una volta te lo offrono, la seconda volta te lo offrono, la terza volta te lo offrono o inizi a rubare per preservare un minimo di dignità oppure dici guarda, mi invento una scusa perché io il sabato pomeriggio a fare shopping con te non ci posso venire a meno che non faccio il manichino che ti sta a guardare mentre fai shopping te e io nel frattempo mi vesto degli stessi vestiti che mi vesto da ormai un bel po'. queste sono le piccole cose per calarci nel concreto diciamo per stare no? è come chiamare i propri genitori dal telefono dell'amica col 4088 quelle robe lì insomma cioè per capire un po' un attimo concretamente di cosa sto parlando ecco questa è una questione che poi alimentandosi fa sì che per esempio non riesci ad accedere neanche alle egevolazioni cioè faccio un altro esempio tu se vuoi andare a scuola e ti prendi l'abbonamento dell'autobus sai che se ti prendi l'abbonamento annuale risparmi due mensilità tre mensilità dal io ho 400 euro da mettere così un abbonamento annuale non ce l'avremmo mai non ce lo saremmo mai sognato ma neanche a mettere l'abbonamento mensile riuscivamo a sognarcelo certo che se non riuscivamo ad avere 18 euro per comprare un libro non ci avevamo 30 euro per prenderci l'abbonamento mensile quindi ogni tanto ci avevamo con l'euro e 50 che riuscivamo a prendere eccetera quindi era sempre un fuggifuggi tieniti il biglietto se passa il controllore lo timbri e se non passa e va e quindi il senso di colpa quando prendevo le multe è il dramma come facciamo come non facciamo questo significa vivere raso terra vivere raso terra significa questo significa nascondersi nei bagni dei treni per non dover pagare il biglietto che ti porta a scuola significa fotocopiare i libri dei tuoi compagni perché a comprare il libro originale non te lo puoi permettere perché se fai il liceo soprattutto e dopo ti bocciano cioè spendere 400 euro di libri per fare il liceo non te lo puoi permettere se se non paghi l'affitto da due anni e sei sotto sfratto eccetera 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 magari sei dieci anni ad aspettare la casa popolare e così e via quindi il rap è stato per me l'unico compagno di vita diciamo che potesse uno parlare a gente come me che aveva bisogno di linguaggio concreto e basilare proprio senza troppi svarioni senza troppa poetica due che in qualche modo esprimesse quel grado anche proprio di rabbia che avevo e io ripeto torno sulla rabbia perché essere l'unico con i libri fotocopiati ti fa incazzare a una certa cioè veramente ti fa incazzare a una certa quindi ascoltare rap per me era ascoltare gente veramente come me e vedere quello che continua a succedere per me l'elemento privilegiato è ascoltare il rapper perché davvero continua a essere nonostante il mainstream nonostante le pippe di tutto il game il rap game del caso il rap continua a essere l'elemento unico di accessibilità cioè è come quando Audrey Lorde parla della poesia la poesia non è un lusso è in quel senso lì che si intende è come quando si parla veramente di resistenza creativa dal margine allora è così che io riesco a parlare di femminismo con il rapper col cazzo duro che cercano di farmi il macio e il fighetto con me allora invece parlo di marginalità come resistenza creativa come spazio radicale di resistenza creativa riesco a parlare con un ragazzo che ha vissuto le mie stesse condizioni che viene dalla marginalità e che usa il rap come strumento espressivo e io usando il rap riesco ad aprire un ponte con queste persone riesco ad aprire un ponte con le persone che so vengono da condizioni di difficoltà davvero davvero estreme perché davvero alla povertà non c'è limite oltre al fatto che alla povertà non c'è limite della povertà chi cresce povero si deve vergognare di essere povero ti devi vergognare di avere vestiti vecchi ti devi vergognare di avere libri fotocopiati ti devi vergognare di non avere libri a casa ti devi vergognare di non sapere abbastanza citazioni ti devi vergognare di non conoscere abbastanza femministe ti devi vergognare di non avere abbastanza teorie in testa ti devi vergognare di tutta una serie di cose quando in realtà quotidianamente trovi strumenti per poter sopravvivere è già quello abbastanza politico già quello è fin troppo politico il politico al personale, il femminismo stesso che fa esplodere questi due concetti che svela il legame tra questi due concetti è il fatto che ecco, il privilegio della femminista che è davvero femminista solo quando riesce a farti 10.000 citazioni e che non riesce a riconoscere come il suo essere femminista è un po' troppo un po' troppo custodito in questo in questa coccola di libri e di, in qualche modo di riflessioni e non la riesce veramente a proiettare oltre, oltre alle persone con cui non sa davvero interagire ecco, la mia sfida è questa cioè io non ho tabù di nessun tipo non volto le spalle a un ragazzino che fa il misogino con me perché lo vedo nella sua fragilità magari è legato al contesto di marginalità in cui è vissuto così come non mi metto in competizione con l'intellettuale femminista bianca super esperta che viene a farmi lezioni di che cosa significa davvero l'empowerment, parola inglese per capire che cosa significa liberazione femminile eccetera 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 quindi grande lezione di Belux è vai dove riesci ad arrivare verso la pazzia e oltre cerca di sdoganare tutti tutti i limiti che ti sono stati imposti in quanto donna in quanto donna nera in quanto donna nera povera che viene dalla margina vai oltre tutto diventa pure l'intellettuale accademica vai oltre trovati in mezzo al contesto più bianco privilegiato del mondo ma ricordati da dove vieni ricordati da dove vieni e in mezzo a quali persone sei cresciuta in mezzo alle persone che in qualche modo ti hanno insegnato anche che cosa significa la sopravvivenza materiale concreta e forse questo è anche il motivo per cui tante volte ci continuiamo a chiedere perché non ci sono abbastanza donne straniere perché non ci sono emigranti perché non riusciamo a interagire con i migranti bla 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 perché continuiamo a parlare un linguaggio che non è nostro continuiamo a parlare un linguaggio che non è concreto che non è materiale continuiamo a usare parole inglesi parole che rappresentano al pieno il privilegio continuiamo ad utilizzare dei paradigma che sono dei paradigma costituiti dal privilegio e che non sono veramente degli strumenti di decostruzione che ci permettono di vedere le persone e riconoscerle così per come sono e la rabbia è la prima di queste e quindi io ascoltando rap ascolto i nuovi rapper di oggi da femminista da femminista che veramente cioè può arrivare la femminista più femminista delle femministe e non mi smonta e non me ne frega un cazzo però ascolta il rapper di origine straniera con tutta la loro rabbia propulsiva e sono veramente felice perché è proprio quella roba di cui abbiamo bisogno abbiamo proprio bisogno di spiattellare tutta la rabbia che questa generazione sta accumulando perché almeno la rabbia concedetecela concedetecela quante quante vabbè basta grazie 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 grazie